buonasera buonasera a tutti dopo quello il video del giorno anche quello della sera eccoci qua pronti a ridiscutere del degli step che i modelli propongono per aggiornarci in merito a quella che sarà l'evoluzione del tempo più congeniale appassionati e c'è davvero tanto da dire i modelli si stanno animando stiamo entrando nella stagione invernale anche dal punto di vista astronomico oggi anzi stanotte alle 2.47 del 22 quindi dicembre è il sostizio d'inverno cioè è il momento in cui le ore di sole nell'emisfero boreale sono al minimo e viceversa sono al massimo nell'emisfero australe come dicono molti appassionati da domani le giornate si allungano quindi si farà più caldo non è così sappiamo bene lo sanno anche la maggior parte dei appassionati che in realtà il periodo più freddo per il mediterraneo centrale in particolare l'italia generalmente viene diciamo la tradizione vuole che sia collocato nei giorni della merla che sono gli ultimi di gennaio e non a caso alcune delle ondate di gelo più forti più durature anche in italia sono si sono sempre verificate i primi di febbraio proprio in quel periodo l'ul 2 il 3 febbraio sono giorni ormai ben noti anzi la maggior parte vi cito solo tre casi famosissimi il più recente il 2012 e sappiamo quello che è successo il 1956 il 2 febbraio l'inizio della grande ondata di gelo una delle peggiori degli ultimi cento anni ma anche il 1929 che leggendario forse la più intensa andata di l'inverno più freddo anche in termini di persistenza da degli ultimi quasi due secoli potremmo dire ha avuto l'acme il 3 febbraio e l'altra leggenda non è una leggenda in realtà la ricostruzione delle carte addirittura pongono una meno 28 gradi a 850 ectopascal nella vicina slovenia con la laguna veneta ghiacciata questa non è leggenda questa è realtà e quindi è questo perché c'è sempre un ritardo tra le ore di insolazione di soleggiamento scusate e quello è il picco del freddo potrei farvi vari esempi ma ad esempio è semplicemente perché sono i due motivi principalmente uno è il fatto che comunque siamo in un contesto mediterraneo quindi circondati dal mare il mare comunque tende ancora a raffreddarsi e quindi il connubio tra raffreddamento dell'emisfero boreale e raffreddamento dei mari fa sì che comunque il periodo profreddo sia quello inoltre il motivo principale è che perché comunque le ore di soleggiamento aumentano molto molto gradualmente e quindi tutti sia il mar glaciale altico ma anche le alte latitudini le località il terreno continuano comunque a raffreddarsi ancora con una certa inerzia per due o tre settimane almeno e quindi quello è il motivo per cui tra fine gennaio inizio febbraio si raggiunge l'acme del freddo e anche e chiudo questa parentesi anche le temperature più basse mai raggiunte nell'emisfero boreale in Ghiacuzia o Mialcon e a Verosias sono state raggiunte comunque a inizio febbraio quindi è un qualcosa di generale meno settanta meno settantuno andiamo avanti ecco questa bella carta quindi è tutto questo è di buon auspicio perché tradizionalmente anche il Natale è abbastanza caldo e soleggiato nelle regioni italiane questo è legato al fatto che il vortice polare raggiunge generalmente la massima intensità la massima compattezza spesso in assenza di altre forzanti in questo periodo a fine dicembre proprio perché c'è una scarsa le ore di sole sono al minimo nella calotta glaciale di conseguenza il freddo tende a salire di latitudine perché il vortice polare si compatta e qui ci sono giornate soleggiate ma adesso dopo questo periodo sempre più i modelli e vengo al dunque mostrano comunque un rianimarsi della circolazione a scala visferica ma soprattutto nel nostro comparto con ondulazioni del getto quindi non più freddo alle alte latitudini e caldo alle medie latitudini che sono le nostre ma ondulazioni quindi caldo che sale in atlantico freddo che scende da noi e guardate che bella carta vediamo a due misposte no di qua di qua perché per mostrarvi al meglio che cos'è questa questa è l'ultima emissione del modello americano l'ultima che ci dice non dico proprio un vero e proprio ponte ben strutturato ma quasi la fine emissione quindi questo lascia ben sperare per quello che può essere il futuro e c'è nell'emissione del modello americano una risalita abbastanza potente che ora vi mostrerò del dell'anticicolo delle azzorre inizialmente con struttura tipo atlantic ridge cioè che sale qui dietro di me dietro la mia testa verso l'islanda poi tende addirittura a curvare verso nord est e andare a collocarsi verso la scandinavia mantenendo una continuità con quello che c'è qui sulle azzorre e quindi un grande inverno in essenzio con questa emissione ancora non vede un vera propria irruzione gelida potente solo un inizio ecco quello che vedete qui che comunque una meno 12 ma comunque questo unitamente al fatto che la stratosfera come mi ha mostrato oggi nel dettaglio ma come vi riassumo anche adesso mostra sempre più segni di debolezza e anche l'ultima questa emissione mostra un poderoso warming che da solo ripeto siberiano di tipo displacement non è ancora sufficiente a destrutturare il vortice polare ma partendo dal fatto che sia abbastanza prematuro già a fine dicembre e che poi può proseguire questa evoluzione la cosa si fa veramente interessante e l'abbiamo visto anche con modello quindi una serie di fattori contribuiscono a far lasciare pensare che il gennaio possa essere veramente dinamico e pieno di spunti di discussione e passibile dell'arrivo del freddo e della neve questa è un'ipotesi adesso tutti diranno vabbè sempre che prevedi gelo e neve no non è che prevedo gelo e neve io vi mostro quelle che sono le ipotesi dei modelli e come potrebbe andare avendo la preferenza ovviamente per le ipotesi più congeniali a noi e oggi ci sono ripeto io non che vi devo dire se c'è un'alta pressione per due settimane vi dico ok adesso c'è l'alta pressione ma non mi dilungo a descrivere invece qui c'è da discutere parecchio e lo vediamo subito mi sono dilugato un po' ma ritengo che questi dialoghi che facciamo ogni giorno anche due volte al giorno diano l'occasione per per raccontare anche alcune cose interessanti questa mi sa che l'ho lasciata anche già da oggi aggiorniamola e vediamo subito cosa sta accadendo funziona funziona di tanto questo è il sito www.metroscienza.it guardate la perturbazione è andata avanti esattamente come vi dicevo oggi si sta sfrangiando e passa della nuovosità poco organizzata nelle nostre regioni ma qui si sta organizzando un potentissimo effetto stau perché c'è una corrente a getto polare potentissima probabilmente raggiungerà 9.000 metri i 300 chilometri orari che scende guardatela è veramente potente poi si sposterà verso est ma stanotte sarà proprio sull'arco alpino possibili venti a 200 chilometri orari lunghe crinali in quota in alta quota prestare attenzione a questo ma già per esempio il grande abbonato Fabio Peci mi manda la cartolina da Dobbiaco dove sta nevicando quindi come vi dicevo nelle località di confine la neve ci sarà e ne farà pure abbastanza e quindi questo è per iniziare ma andiamo a vedere poi cosa accade qual è l'emissione del modello americano ve la mostro subito eccola qua vedete sì questa è la il fan quello che ci sarà stanotte con nevicate lungo il confine dato dal fatto che queste due titaniche figure proprio lo sconto tra titani noi siamo nel mezzo c'è una corrente velocissima che va da nord ovest verso sud est guardate che succede dopo a poco a poco come vi dicevo oggi manca a parlarne a natale c'è l'anticiclone ma poi le cose cambiano e si inizia proprio con la fine del mese 28 29 peggiore il tempo al nord 28 29 vedete peggiore al nord poi il peggioramento entra deciso per fine anno proprio nelle nostre regioni ed è probabile che capodanno non sia del tutto sarà piuttosto instabile e il modello europeo stasera converge perfettamente con quello americano per la prima volta visto che si arriva a quell'asso temporale passa questo guardate che succede dopo nuova risalita punta verso la scandinavia eccola qua guardate l'anticiclone dove va dove va e qui ci arriva la colata fredda che non ci prende ancora in pieno ma vedete avete visto già che isoterme che c'erano vedete come va verso la scandinavia proprio l'anticiclone vi faccio vedere un'altra cosa ecco qua questo è l'ultima l'ultimo pannello del modello europeo guardate vedete stessa identica emissione con il modello americano ci siamo quindi iniziano a combaciare e poi vi faccio vedere questo qui è il warming qui diminuisco un po come lo riporta stasera il modello americano guardate molto potente ancora più accentrato verso il polo questo da solo potrebbe non bastare così è una è una dislocazione appunto un displacement ci vuole se dovesse però partire una seconda onda di qua dall'atlantica allora sì che si ragiona successe così ad esempio nel 1985 ma ancora qui non lo vediamo questa è un'altra queste no sono altre carte eccolo qua allora quindi ecco che ho fatto vedere quindi ora la troposfera ci dice che le cose vanno bene la stratosfera va benissimo vi faccio vedere anche l'altra carta quindi tutto va a combaciare questa ve l'ho mostrata oggi eccola qua ricordo per chi non ha visto il video di stamattina questo è quello che mostra il modello europeo per a partire da fine anno poi a inizio gennaio e poi a seguire anche ma un crollo delle velocità zonali una crisi del vortice polare con molti cluster parecchi davvero che vanno in negativo quindi con affermazione di un anticiclone polare eventualmente quindi inversione dei venti zonali possibili moti retrogradi nel caso questo tipo di circolazione si trasferisse poi in troposfera ci siamo quindi ci sono alcuni segnali molto positivi per carità poi ci becchiamo lo stesso anticiclone di sicuro fino a fine anno ve l'ho detto prevalenza anticiclonica ma già dopo il ventotto al nord peggiora e probabilmente il trentuno uno il peggioramento dovrebbe arrivare anche su tutte le regioni quindi non gelo intendiamoci e poi chissà potrebbe arrivare qualcosa di molto più interessante lo aggiorneremo ve lo farò vedere in seguito nel frattempo ovviamente iscrivetevi al canale youtube abbonatevi instagram e youtube e il bonus grazie se volete dare il regalo di natale adesso mi sto davvero impegnando molto un abbraccio a tutti ma ci risentiamo presto ciao ciao